E' partita la donazione 1000 euro Se l'hai accorto raga Se l'hai accorto raga Ogni 10.000 like Che arriverà a questo video Io donerò 1000 euro A un altro youtuber Attenzione L'ha visto raga L'ha visto raga No Ha spagato il pixi L'ultima volta abbiamo donato 2000 euro a uno youtuberino Li abbiamo rimborsati E poi gliene abbiamo donati altri 1000 Questa volta hanno rimborsati Ebbene vi chiederete Ma si Ma tanto Crazy Matt Li dona e ce li guadagna dei video Oggi vi faccio vedere una bella cosa Come l'altra volta Infatti lo scorso video Ha raggiunto belle 152.000 visualizzazioni Vabbè che voi Cioè sono dietro di me Quindi non vedete E ha raggiunto la bellezza di 77 euro Ebbene si Ne ho donati 1000 E ne ho guadagnati 77 E voi vi direte E allora come fai Ci sta prendendo in giro No Grazie al codice Cmed Io continuo questi video Perché il codice Cmed E' un guadagno Che io rinvesto Per aiutare A fare contenuti Cioè per fare contenuti Sul mio canale Insomma E per portarvi contenuti esclusivi E unici Quindi vi prego Prima di iniziare Codice Cmed C-M-A-D Nel negozio oggetti E aspetto lo screen Su Instagram Dove mi chiamo Crazy Quindi Andate su Instagram Mettete Crazy Mi inviate lo screen Che mi supportate Come creatore Io giocherò con voi Detto questo Like, iscrizione e campanella Per supportare Questa mega serie Oggi andiamo a vedere Ogni 10.000 like Avevamo detto Donavamo 1.000 euro Signore e signori Il video ha raggiunto La bellezza di 27.000 like Quindi andremo a donare 3.000 euro Perché li aggiungo come bonus Li rimborseremo E poi Gli renderemo Altri 1.000 reali Buona visione Preparatevi al peggio Eccoci qua Al di là che è uscito il video Su Alice e Crazy Ovvero regaliamo la cena Nel McDonald's Senza detto Quindi un like Io lo butto È proprio uscito in questo momento Andiamo a vedere Chi c'è in live Ragazzoli Perché è veramente Molto 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 importante Uuuuh Tra i miei amici C'è Technic Vale Quello che viene sempre In live con me Raga Potrebbe essere Molto molto interessante È un mio amico Raga È un mio amico Non ho neanche l'overlay Ho messo un overlay Totalmente random Perché non ce l'ho L'overlay Ragazzoli Ragazzoli Mi sa che abbiamo Allora Personalmente raga Io non dono mai Youtuber grandi Perché non ha senso Cerco di aiutare Quelli più piccoli Vediamo se lui Ha le donazioni Paypal Ragazzoli 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 Mi sono appena accorto Che Vale Non ha le donazioni In descrizione Cioè in descrizione Ma subito dopo Mi sono accorto Che lui In realtà Le spamma Nelle Nella chat Quindi fa lo stesso Speriamo che funzioni A sto punto Ok va raga Va Va Eccoci qua Nessuna donazione Alla nostra Bella schermata Siccome a me piace Iniziare col botto Io direi di iniziare Con un bel Un bel millino Diciamo Un bel mille euro Perché a noi ci piace Iniziare con mille euro E diciamo Io Scriviamo Io non li uso Io Non li uso Li do Ai poveri Raga Ovviamente non voglio Non sto offendendo Non sto dicendo Che sono ricco Perché poi li vado A rimborsare Perché tutti questi soldi Non li ho Per spenderli Però Voglio proprio fare Questa volta Lo sfacciato Quello che vuole dissare Vediamo che succede Vediamo che succede Anche perché Vale Non è povero Non è povero Però vabbè Raga Vediamo che succede Vado a donare Andiamo con Paypal E let's go Mille euro Vai Ragazzuoli È partita È partita la donazione Mille euro Ho donato mille euro Raga Calmi tutti Calmi tutti Ti piace sta cam Non chi c'è dentro La cam È arrivato La cam È arrivato È abbastanza decente Bella Non c'è una musica Bella Bella Alex Bella Aia Bella a tutti raga Non c'è la musica Anche io vedo la tua faccia Sì ma raga Perché ho fatto sempre video E live senza camera Non la sta vedendo Anzi ditemi Sta laggando raga Perché non lo so Se sta laggando o meno Ma non lo sta vedendo raga Se vedete qualche lag Qualche cosa Ditemelo Ma non lo sta vedendo Non esitate Io ho tornato mille euro E' vero importante Io ci tengo la qualità Delle live e dei video Ok bello Bello buono 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 lo sto cildone Mi iscrivi il tweet di bro La mando agli abbonati La richiesta No raga Scusate Ok Scusate Scusate per la cara Se l'ha accorto Se l'ha accorto raga Se l'ha accorto raga Se l'ha accorto raga Se l'ha accorto Guardatelo Guardatelo raga Guardatelo Guardatelo Se l'ha accorto raga Se l'ha accorto raga Se l'ha accorto raga Raga Ha spaccato la tastiera Ma come si fa a spaccato la tastiera Vabbè Parlo io che ho spaccato il morto Magari si è buggato Magari ha donato un euro E tipo 0,0 No aspetta Fammi controllare Fammi controllare No raga Vediamo che succede Raga la tastiera Lui gliel'ha scritto già E' un troll Ma rimborsa tutto No no raga Vediamo che succede Raga Vediamo che succede Raga ci sono davvero Fra Crazy Dio Raga Come potete ben vedere Qua appare Crazy Med 1000 euro Andiamo di botto Raga 1000 euro Mettiamo Crazy Med signori Altri 1000 E 1000 euro Anzi no Mettiamo 500 euro 500 Andiamo di 500 Signore e signori 500 euro donati Eccoli qua Distrugge tutto Con 500 euro Vediamo che succede Raga Ci sono davvero Attenzione 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 Guarda la gente che dice Che è bella tu dire Altri 500 E siamo a 1500 euro donati E' Crazy Med No raga E' crazy Spaccato tutto No poverino raga 1500 euro Raga Raga Delirio Anche oggi ragazzuoli Raga ho spaccato tutto E' questa gridando Vi propongo una sfida Ogni 10.000 like Che arriverà a questo video Ti otorerò 1000 euro A un altro youtuber Quindi se arriviamo a 30.000 like 3000 Se arriviamo a 40.000 4000 Ragazzuoli Popateli like E condividete a tutti Perché Crazy Med Donerà tutto il mondo Signori Io ti ringrazio Sta ancora orlando E' scioccato Non sa cosa vuole fare Sta spaccato tutto Ha spaccato la tastiera raga Delirio 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 Se n'è andato E' finita raga L'abbiamo fatto sclerare Ma signori e signori Donne e bambini Vedremo come reagirà Fra Fra tu non sei normale Fra Sì Sono normale Sono normale bro Vedremo come reagirà Quando Quando Non ci saranno 500 Non ci saranno Mille Ma signori e signori Mille E' 500 Euro Andiamo su Donna Andiamo su Paypal E ci vediamo dopo Signori E' andata 10 Mille Cioè Mille 500 euro Raga 10 9 8 7 6 5 5 4 3 2 1 Ragazzuoli Stanno per arrivare Altri 1500 E siamo a 3000 Si vede in cam raga 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 guardate Non so se si vede I buchi nella tastiera Ma ha spaccato la tastiera Raga Ma spero che si possano rimettere a posto Vero Ma no È la tastiera da gaming Penso di si No raga Io Ragazzuoli delirio Io non ho parole Raga Non ho parole Stanno arrivando 1500 euro Ma Chris Scrivi qualcosa Non so Lo chiamo raga Che fa Raga Raga Attenzione Oh mio dio Attenzione Cosa L'ha visto L'ha visto raga L'ha visto raga Fedeci Fra Fra Sta spaccato tutto Fra Sta spaccato tutto Fra 1500 insieme Ha spattuto la testa Fra che ha 3000 3000 euro Poverino Poverino quando adesso è rimborso Ma no Ma no Ma no Ma no raga Crisi No raga Oddio È partita la gola Raga Fra Come il fake Raga Scritto in chat Raga Oddio Sanzo Ho chiamato Sopore No raga Aspetta Mi è andata via Vero No avrei chiamato Mia madre Io è morta la cam Raga Io è morta la cam Crisi Scrivi qualcosa In chat Fra La cam Scrivi E scrivo La cam La cam No delirio Boiz Veramente Ci sei bloccata Delirio No raga Ho dato una botta anche alla cam Raga ho dato una botta anche alla Raga ho dato una botta alla cam Raga scusate un attimo Riavvio un attimo Si è ripreso raga Si è ripreso Ragazzuoli come potrebbe venire Ho preparato il messaggio Io direi subito di andare Nella mia bella paypal E andare a rimborsare tutto Ci siamo raga Ci siamo raga Andiamo a rimborsare Apro Vabbè Il tutto per rimborso Vai Rimborsa Vado qua E metto Rimborsa Rimborso Yes Vai Let's go raga Scrivo E vado a chiedergli Che ho rimborsato tutto Ci siamo Ha spaccato pure il microfono Ha spaccato tutto Ha spaccato tutto Vado a rimborsare Ho appena rimborsato 3000 euro Raga ha rotto la possazione Raga Controlla avrà rimborsato Ma già lo sa Raga Attenzione No Ciao youtube Oh Chris ha scritto Però purtroppo Ho bisogno di quei soldi Ho dovuto Guardate la faccia Guardate la faccia Ho rimborsato 3000 euro Non troverai Il polvo Raga Ho rimborsato tutto Raga Ho rotto tutto Raga Ha rotto la testiera Ha rotto la testiera Poi guarda Foxy C'è Foxy Che ha scritto benvenuto nella family dei trollati Non ci credo Dai Non ci credo Signori È arrivato il momento di sganciare La bomba boys Siccome abbiamo raggiunto i 27.000 like Signori e signori Io vado Ma questa volta Non gli donerò 1000 Ma bensì 1500 euro Andiamo raga 1500 euro 10 Questi non li rimborso 9 8 7 6 5 4 3 2 1 Let's go Ragazzuoli 1500 euro Dona Paypal E vado a confermare Ci siamo ragazzuoli Ci siamo Ho donato 1500 euro Però questa volta veri Si è bloccato tutto Non sta parlando Non sta parlando Raga Raga Non sta parlando Questi Sono veri Non li rimborso Tranqua Si rimborsa Vediamo che succede Ragazzuoli 1500 euro Veri Per lui Anche se ne cazzo 70 O 50 O 40 No Non li rimborso Tanto Questi non lo so Salutate Youtube Let's go Raga Questi sono veri Raga Mila e sicurezza Ero veri Vediamo la reazione Vediamo la reazione Vediamo la reazione Ragazzuoli Stai impazzendo Stai impazzendo Stai impazzendo Stai impazzendo Vediamo cosa va Per avere paypal Salutate Youtube Che ci sono E' certo che ci sono Ma cosa ci sono Ha dato una peta dal pc Ha dato una peta dal pc Oh ma no No Ha spaccato il pc Ha spaccato il pc Ha spaccato il pc Ha spaccato il pc Ha spaccato Hai rotto tutto Ha spaccato C***o Ha scritto Ha spaccato il pc Ha spaccato il pc E chi Ha spaccato il pc Vediamo la parte Salutate Youtube Vediamo la parte raga Ragazzi ci sono Ha dato un cazzotto Ragazzi ci sono Ha dato un calcio qua Ragazzi Ha dato un cazzotto Ha dato un cazzotto Ha dato un cazzotto E' rotto tutto Va bene raga Ha spaccato Tastiera Microfono PC Ha spaccato tutto Questa volta Io vi saluto Like Iscrizione E camparella Void mi raccomando Vi ringrazio per aver visto Questo video fino alla fine Ragazzuoli Ringrazio male Anche se E' stata la vittima Anche se No raga Cioè Si è verificato un errore E poi ho cresciuto tutto Grande Declique Vale Io vi ringrazio Per aver visto Questo video fino alla fine Dal matto E tutto Io poi Mamma mia Che matagine E voglio concludere Questo video Alla technique Vale E poi E poi